Consegnata da RFI il progetto di restyling della stazione ferroviaria di Pestum. È stato profico l'incontro tra Comune, Rette Ferroviaria Italiana, Soprintendenza e Referenti del Parco Archeologico di Pestum, durante il quale RFI ha consegnato il progetto preliminale. Il tutto finanziato con fondi di RFI e della Regione Campania. Prevede un restyling complessivo dell'infrastruttura, con abbattimento delle barriere architettoniche, due sensori per persone diversamente abili, telecamere di sicurezza, tornelli, sottopasso pedonale, la realizzazione di marciapiedi, l'allungamento delle banchine, per consentire anche le fermate in piena sicurezza dei treni di alta velocità. Ed ancora la riqualificazione del fabbricato dell'ex stazione e l'ex punto ristoro, che diventerà un ristorante per la valorizzazione della cultura cilentala e nuovi servizi igienici. A breve, altro incontro per tutti gli altri accorgimenti, prima della convocazione della conferenza di servizi.